Avete mai visto una cucina su ruote? Si tratta di Mini Kitchen, un progetto di Giocolombo del 63. Un unico blocco super funzionale contiene tutto quello di cui si ha bisogno in cucina, compreso frigo, piastra a cottura e stoviglie per 6 persone. Questo progetto visionario è riconosciuto come uno degli oggetti iconici del design italiano.